Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! E Pikachu com'è? Bello! 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 Scusi! Allora, con che cosa giochiamo stasera? Con questo! Questa è una tua! Questa! Buonasera! Questo qui! Oh! E cos'è? E che cos'è? Ma, cosi che si fa? Bello! E voglio aprire questo! Allora, adesso Pikachu sarà proprio uno! Adesso guardiamo anche gli altri! Guardiamo qui! Cos'è scritto qui? Dinosaur Park! Jurassic Gold! Uno! 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 Apri! Guardiamo un po'! Come ti fa? E questo che cos'è? Come si fa? Guardiamo un po'! Guarda un po' qui! Disponibili in tre colori diversi! Verde, rosso e giallo! E tu? Che colore hai? Rosso! Rosso! Allora, ecco, così! Vedi? Lo metterai in bocca e devi schiacciare! Vediamo un po' come funziona! Io voglio mettere questo! Io voglio mettere questo! Ah! Così! Però forse bisogna mettere così, no? No! E così com'è? Ah! Ah! Così, Vittoria! Guarda! Prima lo metti così dentro! E poi guarda dove devi schiacciare! Che bello! Qua! Bene! Prima lo metto! Qua! 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 Vesti schiacciare qua! Così! Yeeeey! Esmo ti un'altra! Wow! Provo io! Si! Provo io! Guarda che sono di gomma morbidissimi! Allora! Oh mamma! Ah! Allora! Prima bisogna un po' proviamo così! Sì! Allora! Io lo lancio! Vedi? Si schiacci tutti e due! Io lo lancio! Possiamo lanciare più lontano! Ma io quello che fa le ali! Quello che fa le ali! Quello che fa le ali! Sì! Wow! Così più bello! Guarda! Guarda! Vieni qua! Prima! Qua! la pressione! E poi schiaccia! Aspetta! Fino al fondo! Tira! Schiaccia! Paglia! Adesso! Paglia! 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 E'la ac History of the Orcur 26 Corpus 25 Corpus Vediamo po' C'è l MARK Vediamo po' C'è l' helping! Paglia! Tutti le siug webgezni! No... Little zum we in! Anche io! Anche tu! Elastic! Perché fai così, guarda! Anch'io elastic! Ah! E se poi è un atleta, praticamente, piccola! Un po' di istruzioni! Ah! Qua anche, guarda! Sederci! Ciao, Vittoria! Facciamo la lotta, la lotta, la lotta! Tu prendi il dinosauro e io prendo questo! Io prendo il dinosauro e tu prendi questo qua? Così facciamo la lotta? Sì! Ma qui c'è più forte! Guardi quanti ce ne sono! Elastic! Elastic! Ma così lo rompiamo, Vittoria! Ho capito che è elastico! Dammi lo elastico! Guardalo! Puoi cambiare il corpo, Vittoria? Come puoi cambiare il corpo? E guarda! Vuoi cambiare! Vuoi cambiare! Vuoi cambiare? Sì! Prova! Guarda! Vuoi cambiare i muscoli! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Ma! Mi piace! Vittoria! Ma! Ese si è piccola! Ma! Ah! Vittoria! Ma! Vittoria! A! Ma! 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 Ah! Vittoria! A! A! sul tavolo deve farsi bene così ma come ti fa? è ginasta lui praticamente un panda ginasta dammi dammi voglio cambiare cosa vuoi cambiare? allora bello questo dinosato Vettoria voglio provarlo anch'io dammelo 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 voglio provarlo anch'io vuoi provarlo anche tu